E' lui che la chiude! Finisce così con il mano fuori del giapponese Ishikawa al tie-break con la festa della Power Volley che supera i turchi dello Zirat Ancara in una finale di ritorno tiratissima e alza al cielo la Challenge Cup primo trofeo europeo nella giovanissima storia della società di Milano Un trionfo a lungo accarezzato, sognato alla fine realizzato con pieno merito dai ragazzi del presidente Lucio Fusaro e di coach Roberto Piazza Capitano Piano e compagni hanno rimontato e vinto 3-2 la finale di andata a Milano Si sono ripetuti ad Ancara in una sfida di ritorno vissuta sulle montagne russe Il grande equilibrio, il crollo, la risalita Milano vince il primo parziale 25-23 Nel secondo set è lo Zirat, allenato dall'italiano Giampaolo Medei a imporsi con lo stesso punteggio Nel quarto l'equilibrio lascia spazio al dominio turco Ancara schianta Milano con un nettissimo 25-16 Il quarto set potrebbe essere quello decisivo Lo Zirat parte forte, 5-2 che non fa presagire niente di buono per la Power Volley Milano però trova la forza di reagire e di cambiare il destino della partita Il 25-18 vale il 2-2 che porta la sfida al tie-break Nel momento decisivo la squadra di piazza non sbaglia più nulla Il punto di petto del libero, magia milanese incantesimo che porta la Power Volley fino al 15-18 a quel mano fuori di Shikawa che fa esplodere la festa Grazie a tutti